ciao a tutti ragazzi oggi andremo un po vedere come giocare wukong solo top abbiamo qua un ospite d'eccezione con noi un veterano di lol ciao a tutti ragazzi che adesso infatti andrà rapidamente ad illustrarci quali sono le abilità di wukong eccetera eccetera allora come prima abilità abbiamo crashing blow che va aumentare il danno del prossimo attacco e in più diminuisce per qualche secondo l'armatura del bersaglio il deco invece fa diventare wukong invisibile per qualche seconda e può spostarsi liberamente lasciando l'immagine dietro di sé la terza nimbu strike si lancia contro il bersaglio colpendo ulteriori due nemici l'ultimate invece attiva un ciclone che stunnerà tutti i campioni sul suo percorso ma benissimo allora adesso andiamo subito alla passiva dicevamo la passiva invece aumenta la difesa magica e di armatura per ogni nemico vicino a wukong molto bene adesso andiamo che ci hanno invitato in una partita dovremmo essere credo un team quasi totalmente italiano andiamo a vedere prenderemo wukong impostandogli come spells il flash e l'hebbing night mentre per quanto riguarda le rune e le masteries le metteremo prevalentemente in difesa in armor penetration mentre le masteries in attacco le classiche 21 9 ma iniziamo allora come primo strumento io prendo l'armatura in modo da resistere molto di più in lane solo top e assieme a qualche pozione fino all'esorimento dei soldi si infatti anche vedevo che quelle per il mana stando su ci stanno così almeno uno a più tempo di di farmare di fare un po di più livelli insomma una per il mana consiglio e altre per la vita invece come abilità la prima è la e che permette di fare danni a più nemici e va molto bene per farmare all'inizio adesso inizieremo ad aiutare il nostro nocturne qua nella jungle in modo che si porta un po avanti e poi adesso risaliamo subito a vedere contro chi dovremo combattere in questa zona ecco vediamo subito che è garren iniziamo un po adesso a giocare in maniera tranquilla di modo che possiamo farvi vedere le varie abilità ad esempio questa del lancio come vedete li colpisce tutte e tre bisogna stare molto attenti a garren molto solido solo top bisogna giocare un attimo difensivi si si decisamente difensivi infatti in questi primi livelli staremo abbastanza in difesa così almeno adesso vediamo che un sacco di cose scappiamo un po in difesa comunque continuiamo e cerchiamo di rimanere qua il più possibile giusto per continuare a salire qualche livello anche lui bene o male non sembra essere particolarmente bravo di conseguenza beh però riesce a scappare bene per lui ecco ora l'ho pusciato indietro è rimasta pochissima vita vedo che non ricolla probabilmente si rifà davanti infatti aspetto un attimo ecco qua c'è stata una gank di shin fortunatamente grazie alla seconda abilità che avevamo sbloccato che era l'invisibilità siamo riusciti a tornare indietro e continuiamo a stare un attimo sulla difensiva adesso qua ci starebbe una ward nel cespuglio solo che vedendo che non mi hanno poi aggredito non mi ha più aggredito il jungler si diciamo non ti ha gankato non sembra un gran jungler questo vedremo se ci farà delle altre gank ma non mi spaventa più di tanto questo garen non riesce a pushare più di tanto quindi lo ci possiamo permettere un rapido recall per fare spesa e infatti prendiamo subito gli scarpini prendiamo subito gli scarpini visto che ci piace ballare ci piace ballare questo gare non è molto non è molto non pusha molto insomma si può pensare di spingerlo ci fosse stato invece qualcuno che magari ci metteva più in difficoltà ci sarebbe già convenuto di più continuare sulla difesa o sulla difesa magica adesso ci sta pushando probabilmente c'è jungler in attesa però infatti noi ce ne stiamo un po' indietro lui togliamo un po' di vita si tanto comunque siamo sotto torre bene adesso ecco grazie all'ultimate che abbiamo sbloccato ha fatto un ardore si è tenuta troppo indietro e l'errore l'ha pagato molto bene ecco la prima kill non prestissimo ma comunque generalmente quando state top cioè a special inizio dovete cercare di far livelli e non e non pushare anche e non pushare troppo perchè se anche gli altri hanno un jungler e sono un attimo organizzati attaccano facilmente adesso qua vediamo con una Kali fantastico fantastico perfetto perfetto facilmente aumentata Kali che non sta facendo un grande lavoro mid ripusciamo adesso torniamo su a difendere la nostra lane vediamo un po' Nocturne che arriva un po' al momento sbagliato ma almeno arriviamo tanto ragazzi quando andate jungle ricordatevi di fare le gang esatto non lasciate sempre soli gli altri se no evitate di andare che fate esatto ecco abbiamo fatto un piccolo stacco perchè vabbè abbiamo fatto 5 minuti dove abbiamo solo farmato diciamo che non era molto interessante comunque dungeon quali sono le abilità che per ora stiamo sviluppando di più allora come abilità da prediligere c'è sempre la E che va sviluppata come prima abilità che è il lancio esatto poiché riceve un maggior beneficio dal danno per livello quindi va sviluppata per prima ovviamente bisogna avere un punto nella V perchè è necessario però poi non va più sviluppata invece gli strumenti ho preso la Vrigal's Lantern poiché Garen attacca attacca l'attacco fisico abbastanza forte e poi ho completato la V un po' di live steal che è top va sempre bene secondo me è da sottolineare anche il fatto che la mossa quella fatta con la V quella che diventa invisibile e si sposta generalmente viene sbloccata solo al primo livello e poi basta cioè non la si sviluppa più diciamo fino a che non si sono portate le altre due al massimo adesso vediamo che stiamo pushando un po' top e un po' mid ecco adesso si deve pregare anche sbaglio si lancia contro Ziggs però non ha previsto l'ultimater e gliel'abbiamo fatta sentire la presenza e probabilmente ecco ci sono altri ecco Akali che arriva adesso la prenderemo sicuramente infatti eccola dai 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 è rimasta lì è rimasta lì è rimasta lì prova a scappare buona via lancio 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 riesce ad uccidere Ziggs che purtroppo si è tenuto flash 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 e con un flash e un crushing blow che vedete quanto danno fa è stata nostra una facile e basilare combo lancio più crushing blow fa moltissimo danno quindi cercare di usarle il più possibile guardate adesso anche sotto torre adesso siamo sotto il primo di conseguenza non sappiamo un buon margine di vittoria ecco riesco a scappare per poco grazie all'aiuto del team che è molto presente con questa partita tutta italiana se lo sbaglio dalla parte nostra almeno abbiamo preso anche il phage per rallentare i nostri nemici ovviamente a ogni colpo in più prendiamo un po' anche di età e di vita adesso guardate questa cali che si lancia assurdamente da sola contro tre probabilmente stava rosicando in una maniera che ha detto fatemene uccidere uno ma lei è andata male incredibile questi giocatori allora adesso compro la hex drinker poiché ho notato che il danno magico degli avversari è molto molto grande quindi un po' di difesa magica per bilanciarla a quella dell'attacco normale direi che è essenziale a questo momento questo quell'oggetto una volta completato ti dà anche uno scudo magico se non sbaglio si che assorbi il 400 danni magici se ti trovi sotto il 30% della vita ecco la l'ultimate perfetta che ha stoppato l'azione di blitzgrun kakali un piccolo inseguimento ecco un altro kill e garen però scappa e via meglio lasciarlo per ora perché perché ora è passato miglior vita quindi è andato meglio così adesso ritenendoci abbastanza soddisfatti possiamo pushare un po' tranquillamente come vedete distruggendo di tutte le loro varie belle torrette prendiamo il blu e il rosso e di conseguenza iniziamo ad avere una potenza notevole essendo un 7-0 come squadra e continuiamo e ormai sia mid sia top sono pushati fino alla base manca solo il bot che ora è leggermente difeso che non aveva speranze ecco la tristana ecco la tristana in questo momento mi avvio verso una lente breve morte una lente breve morte ma donia ho preso la strada sbagliata per tornare indietro e sono stato circondato dalla squadra avversaria adesso compriamo come dicevamo prima questo completo e ora andiamo ad analizzare un attimo il danno degli avversari la statistica ecco un attimo la situazione di gioco sta andando abbastanza bene non sembriamo subire grossi colpi distruggiamo la torretta proviamo con la seconda ma Garen il nostro amico viene a farci di vita e perchè non salutarlo iniziano ad essere un po' troppi quindi allontanarsi quindi allontanarsi ci proviamo ci troviamo ma iniziano ad arrivare anche i nostri compagni allora ci allontaniamo ma non troppo cerchiamo di stare attorno per vedere se c'è la possibilità di dare una mano qua c'è Ziggs che prova comunque ad attaccare io cerco di tornare indietro per cercare di salvarlo perchè non abbiamo la vita per fronteggiare tutti questi fortunatamente è arrivato Not1 all'ultimo proviamo a fare qualcosa ma molto bene alla fine sono arrivati i lati della squadra sono riuscito ad ucciderli però sono rimasto un attimo indietro adesso sto cercando di recuperare la Kali che era un giro per i cespugli come potete vedere in chat dicono salva la scimmia salva il mondo e hanno ragione però direi che ce l'hanno buffata decisamente ma è rimanere da soli ora prendo il frozen mallet che direi da un'abilità in più anche notevole a livello 17 si può completare per avere lo slow permanente e ora inizio a abilitarmi la danno penetration per massimizzare al massimo il danno dell'abilità adesso ormai con loro quasi del tutto morti possiamo pushare tranquillamente verso la loro torretta diciamo che questa partita come squadra la stiamo dominando non abbiamo grosse difficoltà fortunatamente siamo molto organizzati e non andiamo da soli ci muoviamo il gruppo ci copriamo le spalle un push abbastanza facile in questa fase non c'è stata una grande difesa comunque come potete vedere per i primi livelli che abbiamo iniziato top sono stati decisivi per riuscire ad arrivare adesso a questo punto sia con il livello che abbiamo raggiunto che è di equipaggiamenti e di farm anche di farm ecco che arriva Tristana la ward alla rivella si riuniscono noi ci riuniamo anche nel nostro modo ci riuniamo ora a metto una ward per attirarne uno ed ecco che arriva Tristana la persona più sbagliata per avantiare che magari lo sono mandato in tank ma io ed ecco il nostro amico di armi ecco l'ultima che ferma totalmente la stravolta e permette e permette di pushare nuovamente rimasto vive solo Akali e Shen che si è salvato che si è salvato che si è salvato poi riappare di là del muro non si sa non si sa quale strana probabilmente avrà usato il flash non so che però viene ucciso dopo brevissimo tempo ecco Akali che nuovamente cerca di si nella mischia provare a fare qualcosa seguita da una folle Tristana che corre corre ma si salva si salva no non si salva non si salva però per questa kill ne valsa la pena vista la situazione insomma siamo già nella loro base adesso possiamo giocare ecco prendiamo la sweeper la sweeper come 40% armor penetration un po' di armor penetration facciamo il baron tranquillamente visto che fatti il baron ci sono gli avversari finito quello eccoli tutti che arrivano ecco Tristana che come sempre fuori posto fuori posto viene uccisa Garen sbaglia ecco che si sono agoniti l'ultimate di stun è una una è una una dover double triple una double triple fantastico adesso sono full team tutti morti e quindi dopo aver preso un rosso però non l'abbiamo preso l'obiettivo un po' di statistiche lo scorso 50 24 abbastanza dominata dalla torretta cristallo io per sicurezza vado ad eliminare un inibitor ma ormai siamo troppo p e andiamo a vincere questa strepitosa partita adesso qui scusatemi ma uscendo mi sono dimenticato di registrare anche la parte dove c'erano le statistiche e tutto il resto per farvi vedere più o meno un'idea comunque vedere i danni eccetera ho fatto la screen dal match history dove potete vedere tutto un saluto da da scratch ciao a tutti ragazzi alla prossima